SELFOR Abbiamo qui con noi Antonio Ciatto della ditta SELFOR, ci può parlare brevemente della sua azienda? Sì, la SELFOR S.P.A. è un distributore di materiale elettrico, un riuscista, un rimeditore di materiale d'automazione, civile industriale, parte luminotecnica e reparto cavi. In che cosa SELFOR eccelle? In questo momento eccelle per il magazzino, che abbastanza a buoni magazzini, ha tre buoni punti di vendita e ha un buon assortimento di materiale, tra cui anche i prodotti ABV. E quale ritiene sia il fattore determinante per il successo della sua azienda? Sicuramente è il servizio, come tutti. È una parte fondamentale che possiamo dare sia a livello di preparazione tecnica che anche a livello di servizio con una buona disponibilità di materiale. Come giudica la possibilità di avere un partner che le può fornire tutta la filiera dell'automazione partendo dal motore e crescendo via via, passando da azionamenti, PLC, eccetera, fino ad arrivare a robot e impianti robotizzati? Sicuramente la buona automazione è un marchio leader, è un'azienda di riferimento. Avendo anche acquisito ABV molti rami vari e può completare la gamma, adesso è sicuramente un partner vincente. Si passa dalla carpenteria alla distribuzione di energia per arrivare fino ai robot e tutta la parte di automation drive, motori, PLC, inverter. Un pacchetto totale. Quali strumenti utilizza SELPOR per anticipare o quantomeno ridurre gli impatti non lineari di un mercato che varia? È fondamentale conoscere il territorio, conoscere soprattutto la gente che ci gravita attorno al territorio. Quindi, diciamo, poi così si possono prevenire anche varie malformazioni come questo mercato, perché poi l'anno scorso è stato un anno sicuramente falsato dai numeri elevati. Quest'anno, purtroppo, dobbiamo ridurci un po', chiuderci un po' il riccio, però sicuramente ce la facciamo, grazie al servizio e a tante altre competenze. La ringrazio per il tempo che ci ha contato. A lei di nuovo, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.